Ciao a tutti, io sono Silvia, io sono William e oggi vi raccontiamo una storia un po' speciale perché vi raccontiamo come è nato il presepe, che è una delle grosse tradizioni di Natale, no? In Italia e nel mondo. In Italia e nel mondo, eh sì, si trova nelle chiese, ma anche in tante case, nelle piazze, in tutti i negozi, ci sono grandi, piccoli, moderni, antichi. Molto stilizzati anche a volte, si vedono solo i profili e spesso e volentieri è vivente. Ah, certo. Vengono fatte le rappresentazioni. Vengono quasi tutti i comuni d'Italia, c'è qualche rappresentazione della natività. Eh sì. Eh, ma com'è nato il presepe? Com'è nato il presepe? Com'è nato il presepe? Questo è un storia interessante perché come tutte le tradizioni ha avuto una sua origine. Esatto. Ed è nato nel 1223 ad opera di un personaggio molto famoso ed amato, San Francesco d'Assisi. È stato proprio lui a creare il presepe come lo intendiamo noi oggi. Per la prima volta. Per la prima volta. Per la prima volta. Esatto. Perché lui qualche anno prima era andato... Incrociata. 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 È vero perché non era frate qualche anno prima. Qualche anno prima non era frate. Per niente, anzi. Anzi. Ed era andato a combattere. A combattere in una crociata. Esatto. Gerusalemme. Ed era passato per Betlemme. Eh sì. Dov'è nato Gesù? Aveva visto i luoghi. Aveva visto i luoghi. Si era innamorato un po' di quei paesaggi. Una volta tornato. Ebbe un'idea. Un'intuizione. Invece di festeggiare il Natale come si faceva sempre. E poi come era prima? Era la messa? Sì. Senti cemessi. E quindi ebbe l'idea di rappresentare la scena della Natività. Con Giuseppe Maria e un bambino in una mangiatoia. C'erano anche il bue e l'asinello, se non ricordo male. C'erano già... Molto semplicemente. Questa cosa però piacque parecchio. E già quella, la prima rappresentazione, arrivarono molte persone, soprattutto pastori, anche dai paesi vicini. E quindi c'era... Sì, perché questa prima rappresentazione avvenne a Greccio. A Greccio, esatto. Che è un paesino che è in provincia di Rieti, alle pendici di questo monte, che si chiama Lacerone. Lacerone, sì. Ecco, alle pendici di questo monte, dove adesso c'è un santuario, il santuario del presepe. E lì, appunto, venne allestita questa rappresentazione e venne celebrata la Messa di Natale con il presepe. Il Papa fu subito d'accordo e quindi fu un grande successo, semplicemente. Perché se dopo 800 anni siamo ancora qui a fare il presepe, vuol dire che è piaciuto molto. Eh sì. Quindi in ogni presepe tradizionale abbiamo almeno... Sì, il presepe è base. Il presepe è base. Qual è il presepe? Il presepe è molto base. Vabbè, abbiamo Maria, Giuseppe, la mangiatoia con Gesù. Che dovrebbe essere messo solo tra il 24 e la notte del 24 e del 25. Eh, tecnicamente sì, perché nasce lì. E tante volte però è già incollato. Sì, è una cosa... Sono i presepi, quelli già pronti, dove Gesù è incollato. E non si può fare niente, va bene così. È così. E un bue, un asinello. Un bue, un asinello. Qualche pastore qui e lì, qualche pecorella. Eh sì. Una stella cometa. Gli angioletti. Una stella... Ci stiamo già allargando. Ci stiamo già allargando. I re magi dovrebbero arrivare. I re magi arrivano all'Epifania. Arrivano all'Epifania. Prima non dovrebbero esserci. Oro, incenso e mirra. E io mi ricordo che da piccola, quando facevamo il presepe in casa, i re magi venivano messi lontani, tipo il presepe era qui e i re magi venivano messi vicino alla porta d'ingresso. Piano piano. Piano si avvicinavano. Un giorno una volta, di soppiatto, fino a spuntare alla Befana. Puff! Ci siamo anche noi. Sì, per l'Epifania. Sì, spesso e volentieri comunque non ci si ferma a questo modello base, perché si aggiungono appunto ruscelli, pastori, casette, mulini e c'è chi... Laghetti. I laghetti. Esatto. Chi è che non ha usato la carta stagnola per fare il laghetto? Noi usavamo lo specchio. Lo specchio? Sì. Addirittura. Uno specchietto. Noi mi ricordo un sacchetto di plastica blu ritagliato. Ma no, guarda. Eh vabbè però, oh, rappresenta l'acqua e ci sta. Però ci sono presepi dove si mette davvero l'acqua. Ah sì, quelli ultramusso. Eh sì, eh sì. Con le cascate. Con le cascatelle dentro, con l'acqua. I vennini che girano. I pesci. Anche. Ma sicuro, qualcuno l'ha fatto di sicuro, eh. Qualcuno l'ha fatto sicuramente. Beh, io ho uno zio che ogni anno aggiunge un pezzo al presepe. E calcolando che questo zio di anni ne ha. Parecchi. Il suo presepe è gigante. È gigante. Me lo ricordo ancora da bambina che prendeva tutto il soppaccio di casa sua. Proprio era una cosa enorme. Eh vabbè. In casa mia si riutilizzava il muschio di anni. Ma credo in tante case. Anche trovare il muschio non è così scontato. Una volta trovato il muschio lo tieni lì. Poi è bello. Lo chiudi. Lo chiudi bene. Eh vabbè. E comunque sì, è un tipo di rappresentazione che si usa in tantissime città. Beh, famosissima è Napoli. Ah beh. La via dei presepi. La via dei presepi. A Napoli c'è via San Gregorio, almeno. Dove è una via specializzata in botteghe dove vengono prodotti pezzi per il presepe tutto l'anno. Eh sì. Poi durante Natale. Eh sì, infatti. Non ci sono mai stata. Deve essere bellissimo però. Amici di Napoli, veniamo a trovarmi. Fateci sapere, eh. Eh sì. E lì deve essere proprio... E comunque si trovano personaggi famosi. Eh, la particolarità del presepe napoletano è che non si limita solo ai personaggi classici. Ai pastori. Ai pastori. Ma anzi, si mette sempre qualche statuina legata al mondo corrente, cioè quotidianità, all'attualità. E si mette anche le pulcinella, si mettono magari le maschere famose. Sì, i presepi napoletani devono essere meravigliosi. Meravigliosi. Anche perché sono... Meravigliosi. Anche l'ambientazione con le case, fanno... Beh, ci sono interi borghi in cui viene in mente i friuli. I friuli vengono fatte delle rappresentazioni. A Pofabro c'è questo comune dove ogni casa allestisce il suo presepe e poi tutti i cortili vengono aperti e si possono visitare. Sì, sulle finestre, è vero. Sulle finestre. C'è chi mette il presepe sulla finestra in modo che altre persone passando possano vederlo. Sì, oppure aprono proprio il cortile di casa e non solo lì, in tanti altri posti succede questa cosa. Per non parlare poi dei presepi viventi. Quella del presepe è sicuramente una tradizione che ormai è stata un po' persa rispetto a quello dell'albero di Natale. Sì, decisamente, però resiste. Un po' meno però resiste, anche perché comunque bisogna ricordare che, a prescindere dal credo, dalla religione di ciascuno, il Natale è una festa cristiana fondamentalmente. Certo. Cioè, comunque sia, quello che si festeggia è il compleanno di Gesù. e quindi è comunque un tipo di... quella del presepe è un tipo di tradizione che mantiene questo legame con la tradizione religiosa. Giusto, brava. Hai studiato? Ho studiato. Comunque, se volete leggere un po' di più su questa tradizione, c'è l'articolo sul nostro sito. Sì, dove si può approfondire. Esatto, dove si può approfondire un pochino. E poi, magari, proprio sotto quell'articolo, o se volete su Facebook o su Instagram, scriveteci come viene rappresentato a casa vostra. Come lo fate voi, presepe a casuccia vostra. Raccontateci. Esatto. O come lo fate, come è fatto nel vostro comune, nella vostra città, nella vostra regione. Se ci sono delle tradizioni particolari, perché sarebbe interessante condividerle, perché magari altre persone possono scoprirle e venire a vederle. Eh sì. Può essere carino. Ci sono le vacanze. Infatti. Magari c'è un viaggetto in programma e perché no, visitare anche queste rappresentazioni è sempre bello, anche con i bambini. Bene. Va bene. Ci vediamo. Ci vediamo presto. Al prossimo video. Noi vi aspettiamo su Fabulinis. Sul sito, su Fabulinis, su YouTube, su Instagram, su Facebook. Dappertutto. Dappertutto. Siamo ovunque. Siamo ovunque. Più o meno. Più o meno. Ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao.